buongiorno a tutti allora si sono svolte le prove libere del gran premio di formula 1 in australia e siccome per me già tanto aver preso la patente b come cantava ma spezzali tanti anni fa sono andato a prendere l'analisi dettagliata che ha fatto il giornalista di sky che sicuramente ne sa più di me ma ci vuole poco in modo da presentarvi quello che è avvenuto oggi durante appunto le prove libere sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda un'analisi dettagliata di gomme e quant'altro quindi bando alle ciance andiamo a parlarvene allora ecco l'analisi completa e dettagliata delle prime prove libere nella stagione 2018 del mondiale di formula 1 che naturalmente hanno visto lui semplino mettere la propria mercedes davanti a tutti come ci si aspettava al momento le ferrari di raccone e vettel si sono piazzate quarte e quinte allora diamo uno sguardo ai best lap alla simulazione gara e al comportamento dei pneumatici pirelli con l'aiuto delle appunto di questo bravo giornalista allora prima di andare ad analizzare nel dettaglio quanto successo nella seconda sezione di prove libere del gran premio di melbourne è giusto parlare un po di pneumatici visto che pirelli ha reso noto il funzionamento delle versioni 2018 allora innanzitutto tra l'aggiunta della mescola hyper soft e della super hard il costruttore italo cinese non sapevo che la pirelli fosse diventata anche cinese ma ormai diventiamo tutti cinesi ha modificato anche la finestra di funzionamento dei nuovi pneumatici per finestra di funzionamento viene intesa la temperatura minima e massima che devono avere gli pneumatici per rendere al massimo della loro possibilità se questa temperatura è inferiore al limite minimo o superiore a quello massimo il grip che essi riescono a generare non è dei migliori e questo si ripercuote nel bilanciamento della vettura e dei tempi sul giro possiamo notare che è stata ridotta la finestra di funzionamento dei compound ultra soft e super soft che nella passata stagione aveva un range di 30 gradi mentre quest'anno sarà di solo 20 gradi allora durante la sessione di prove il lavoro dei team è rimasto pressoché similare rispetto alla scorsa stagione sono stati infatti simulati due run con poca benzina utilizzando due delle tre mescole a disposizione per poi simulare la gara dividendola in due segmenti ben distinti allora cominciamo col primo stint i piloti non hanno utilizzato gli stessi compound Hamilton e Rayconen hanno utilizzato le gomme super soft mentre i due Red Bull e Vettel hanno utilizzato la soft a parità di gomme Hamilton è stato più veloce della Ferrari di Rayconen di circa mezzo secondo distacco perso quasi interamente nel terzo settore che è quello sicuramente più rappresentativo del tracciato australiano dove per essere veloci è importante avere tanto carico aerodinamico ottimi inserimenti in curva e molta trazione con la mescola soft la Red Bull è stata piuttosto competitiva in quanto Verstappen è riuscito a girare su tempi molto simili a quelli di Hamilton la bontà della RB14 si vince specialmente nel terzo settore dove nonostante gomme meno prestazionali il giovane peloto olandese si è portato molto vicino ai tempi delle quattro volte campione del mondo ancora piuttosto elevato invece il distacco rimediato nei primi due settori dove la potenza della Power Unit è fondamentale la prestazione di Vettel con gomma gialla non è stata buona in quanto il distacco rimediato da Verstappen è piuttosto elevato veniamo al secondo stint il secondo stint è stato realizzato da tutti i piloti con le gomme che si utilizzeranno durante le qualifiche di domani pioggia permettendo perché c'è rischio pioggia anche questa simulazione di qualifica ha confermato i concetti espressi in precedenza la Mercedes è molto veloce nel primo e terzo settore e Red Bull è più potosto forte nel secondo e nel terzo la Ferrari invece sia come Raikkonen che con Vettel accusa il gap maggiore nel primo e terzo settore ed è la più veloce insieme a Red Bull nel tratto centrale la vettura di Maranello non sembra ancora aver trovato un setup convincente e si è notato troppo sotto terzo in alcune curve veniamo alla simulazione di gara la prima parte di gara è stata simulata da tutti i piloti analizzati con le gomme ultra soft e analizzando il passo possiamo notare che sono tutti piuttosto ravvicinati quello più veloce è stato Ricciardo che è quello che ha realizzato lo stint più breve da queste prove sembra che sarà importante per tutti i piloti non stressare oltremodo le gomme soprattutto nella prima fase di gara per non portarle oltre la giusta finestra di funzionamento veniamo alla simulazione di gara del secondo stint la seconda parte di gara è stata simulata utilizzando lo stesso set di gomme utilizzato nel primo round della simulazione delle qualifiche con gomme super soft si nota come la Mercedes di Hamilton sia stata molto competitiva rispetto alla SF71-H di Ray Kohnen lo stint realizzato dal pilota finlandese è stato comunque di 16 giri contro i soli 8 del 4 volte campione del mondo con le gomme soft il passo tenuto dalla Ferrari con Vettel è stato ottimo addirittura più veloce della Mercedes di Bottas positivo anche il ritmo della Red Bull che però non è sembrata a livello di Ferrari e Mercedes per le qualifiche di domani in caso di pista asciutta il favorito per la proposition è sicuramente Hamilton ma in caso di pista bagnata tutti i pronostici potrebbero essere capovolti in casa Red Bull sperano sicuramente nella pista bagnata perché non disponendo di una mappatura del motore da qualifica potrebbero esserne abbannaggiati da segnalare che Daniel Ricciardo a causa di un'infrazione con MESN FP2 durante il regime di bandiera rossa dovrà scontare tre posizioni di elettrocessioni in griglia per quanto riguarda la gara il discorso sembra essere completamente aperto perché non si è visto nessun dominio da parte di un team sicuramente la Mercedes parte avvantaggiata ma Ferrari e Red Bull non sono così lontane bene quindi fortunatamente fortunatamente sembrerebbe che quest'anno se la possono giocare un attimino di più rispetto agli anni passati perché vabbè è vero che l'anno scorso pronti via ha vinto subito Vettel quindi per di più il Gran Premio d'Australia spesso e volentieri vede tantissime uscite non so se è stato l'anno scorso o due anni fa che sono finito in 11 quindi tutto può succedere è la prima gara e sappiamo benissimo che la prima gara non dà mai un favorito sin da subito poi dopo 3, 4, 5 gare si cominciano a vedere a delineare le differenze tra le varie squadre chi è il favorito, chi è il seguitore e tutto quanto sempre che pronti via 6 vittorie Mercedes e chiudiamo già subito il discorso speriamo di no perché comunque la Formula 1 ha bisogno di belle sfide un campionato avvincente fino all'ultima gara e anche perché se no la gente si disinnamora c'è poco da fare bene la presentazione ve l'ho fatta domani parleremo anche delle qualifiche ciao ciao